Musica Sempre più poveri, il coronavirus ci riporta indietro di 15 anni nella lotta alle disuguaglianze 2 milioni di famiglie sono nell'indigenza, penalizzate soprattutto le donne Tante hanno perso il lavoro, mentre quelle che lo hanno tenuto si dividono tra figli in didattica a distanza e smart working e la pandemia cambia anche il modo di intervento solidale delle grandi realtà caritative I dati ci dicono che stiamo intravedendo cosa potrebbe accadere più avanti a fine della pandemia Aumentano i vaccinati e scendono i contagiati, malgrado questo serve prudenza Da lunedì quasi tutta Italia sarà in zona gialla Vivi per miracolo la vicenda dei pescatori di Mazzara del Vallo Che sono stati mitragliati dalla guardia costiera libica Domani mattina rientreranno in porto ma la paura è stata tanta Colpi ad altezza d'uomo ferito da schegge il comandante Tragedia senza fine sul lavoro A Parma muore un operaio di 30 anni schiacciato da un contenitore pieno di mangime per animali A Prato presidio per non dimenticare Luana La mamma 22enne deceduta in un'impresa di tessile Dalla Terra allo spazio e ritorno i Coldplay superano l'atmosfera del nostro pianeta Per lanciare il loro nuovo singolo e lo fanno dalla stazione spaziale internazionale in orbita intorno alla Terra Buonasera e benvenuti al TG2000 È un'Italia sempre più povera quella che sta attraversando quest'anno la pandemia Aumentano le famiglie in difficoltà che faticano ad arrivare a fine mese Ad essere colpite sono soprattutto le donne e in particolare le mamme Pierluigi Vito Sempre più poveri È un'Italia ricacciata indietro di 15 anni nella lotta alle disuguaglianze Quella segnata dal Covid Le stime dell'Istat parlano di 2 milioni di famiglie in povertà assoluta Per un totale di 5,6 milioni di individui Quasi un italiano su 10 fatica a sbarcare il lunario Una folla di persone lasciate indietro come non si vedeva dal 2005 E se nelle regioni settentrionali si registrano gli aumenti più sensibili È il mezzogiorno l'area in cui la povertà morde di più C'è una categoria però da nord a sud che si dimostra maggiormente penalizzata Le donne e tra di loro le mamme che in epoca di pandemia si sono ritrovate a fronteggiare Un carico superiore di insicurezza e stress Come parrucchiera ho perso un sacco di clienti E non poter portare i miei figli ai giardinetti O farli giocare semplicemente con i compagni di scuola o dell'asilo La difficoltà maggiore è stato trasmettere ai miei figli Il messaggio che sì mamma era a casa ed ero disponibile se avessero avuto bisogno Ma che andava rispettato il mio spazio lavorativo Le equilibriste le definisce il rapporto annuale sulla maternità di Save the Children Donne sul filo dell'incertezza lavorativa e su cui grava la cura della famiglia e degli anziani di casa Sulle spalle delle donne italiane ora abbiamo ogni settimana 15 ore di attività di cura non retribuita in più Chiaramente capiamo che non possono restare sul mercato del lavoro Infatti finiscono per perdere il posto L'esperienza è capitata lo scorso anno a 249.000 di loro Tra cui 96.000 mamme di figli minorenni In questa spirale di impoverimento a farne le spese sono i figli Quelli nati che crescono in pericoloso stato di privazione E quelli non messi al mondo per ragioni economiche Nel 2020 sono nati quasi 160.000 bimbi in meno rispetto a 10 anni prima Ed in tema di povertà andiamo adesso a Milano per raccontare dell'opera Cardinal Ferrari Da un secolo in prima fila nell'accogliere chi ha più bisogno Soprattutto in quest'anno così difficile Luciano Piscaglia Il coronavirus condiziona ma non ferma l'opera fondata nel 1921 dall'allora arcivescovo di Milano Il beato cardinale Andrea Carlo Ferrari Che festeggia i 100 anni di attività continuando ad accogliere chi ha più bisogno La pandemia ci ha costretto a modificare tutta una serie di attività Di organizzazioni, di servizi per continuare a dare con una formula diversa Risposte alle molte persone che per motivi diversi vivono vari tipi di fragilità Anche in piena pandemia i vecchi e i nuovi poveri di Milano Trovano sempre la porta aperta al centro diurno dell'opera Dove nel rispetto delle regole anti-covid possono mangiare in menso Fare una doccia, avere abiti puliti, giocare a carte o a bocce Noi prima del covid ospitavamo più di 200 persone ogni giorno Con l'arrivo del covid e il lockdown abbiamo invitato a restare a casa chi aveva una casa E qui in questo periodo dall'inizio del lockdown vengono solamente senza dimora E persone in assoluta e totale fragilità Sono italiani e stranieri, senza tetto e precari, separati, vittime di violenze C'è chi ritira il pacco viveri per la famiglia e chi passa la giornata al centro diurno Ma per l'opera sono tutti carissimi Perché loro non sono i poveri, sono i carissimi che hanno bisogno di ascolto Di essere sfamati, vestiti, seguiti, assistiti Quindi sono i nostri carissimi E c'è anche chi, come Enza, entrata come carissima Oggi è una dei 200 volontari dell'opera Guarda, io ti giuro, più voglio dare, mi credi? Io voglio fare sempre di più Perché loro mi hanno aiutato, io ripeto Ma tanto mi hanno aiutato, ma tanto che sono contentissima E oggi cala l'incidenza del contagio Ma andiamo a vedere la situazione in Italia Con appunto meno contagi, 207 vittime I medici lanciano l'allarme per il possibile rinvio Della seconda dose di vaccino alle persone ammalate di tumore Nicola Ferrante Molise, provincia di Bolzano Sorvegliate speciali, unici due territori con indice di contagio Sopra l'1, ma alla fine della prima settimana di maggio Un'Italia migliora la curva Nel dettaglio i numeri presentati oggi mostrano un dato in aumento E l'indice di trasmissione Che invece di scendere passa da 0,85 della settimana scorsa a 0,89 Più incoraggiante l'incidenza di nuovi casi Che nell'ultima settimana scende da 146 su 100.000 abitanti a 127 Altro elemento, il tasso di occupazione delle terapie intensive Supera il 30% dei posti dunque sogli ad alto rischio In cinque regioni, Calabria, Lombardia, Marche, Puglia e Toscana Per effetto dei vaccini si abbassa a 41 anni l'età media dei casi Con un aumento da 0 a 18 anni Un'impennata in età scolare fino ai 9 anni Comunque ci troviamo in una situazione epidemiologica Dove circolano le varianti E questa ovviamente è un'attenzione che dobbiamo continuare a mantenere Perché sia per quelle che conosciamo Sia l'attenzione per quelle che potrebbero manifestarsi Che si stanno manifestando in vari contesti a livello globale Contrare infine alla decisione di posticipare la seconda dose a 42 giorni dalla prima La federazione degli oncologi secondo cui per i malati di tumore Ogni ritardo potrebbe essere fatale Siamo molto preoccupati di questo provvedimento di ritardo della seconda dose del vaccino Ai nostri pazienti oncologici in trattamento Perché abbiamo esperienze e dati che dimostrano Che questi pazienti sviluppano un'immunoreazione estremamente più bassa Ed anche lenta nel realizzarsi Quindi bisogna in questi pazienti rispettare i tempi della prima e della seconda dose In vista di lunedì quando quasi tutta Italia sarà gialla Tiene banco la questione coprifuoco Che dovrebbe essere spostato fino alle 23 o addirittura alla mezzanotte Secondo il ministro Di Maio data auspicabile dal 16 maggio Cesare Cavoni Molto giallo nessun rosso È il nuovo quadro che si profila alla luce del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità Dunque da lunedì Puglia gialla insieme a Basilicata e Calabria Valle d'Aosta di Nuova Arancione Che resta in lockdown solo per una settimana Insieme alla Sicilia e alla Sardegna Ma intanto la buona notizia è che nessuna regione è rosso Così quasi tutta la cartina geografica si colorerà di giallo Il che vuol dire ristoranti e bar con tavoli all'aperto A pranzo e a cena Ingresso consentito in cinema, teatri e musei Siappure con capienza limitata Spostamenti liberi verso altre regioni gialle Anche se le stime non sono ancora influenzate dalle parziali riaperture del 26 aprile Su tutta legge ancora l'incertezza dello spostamento del coprifuoco dalle 22 alle 23 oppure a mezzanotte Naturalmente è bene nel momento in cui c'è questa tendenza Una parziale, graduale riapertura di molte delle attività Continuare la campagna di vaccinazione Questa accelerazione c'è stata Superiamo molto frequentemente le 500.000 vaccinazioni al giorno E' un dato estremamente positivo E' naturale, bisogna continuare a tenere dei comportamenti comunque sia prudenti Perché vorremmo vedere questo effetto lungo Di questo miglioramento della situazione epidemiologica La politica con Draghi che partecipa al vertice europeo di Oporto Dedicato ai diritti sociali Con il Covid i divari sono ancora più profondi Nessuno venga lasciato indietro Ha sottolineato il Presidente del Consiglio Che ha anche annunciato 6 miliardi di investimento Del piano di ripresa per il mercato del lavoro Augusto Cantelmi La prima in presenza in un vertice europeo Da Presidente del Consiglio E l'attenzione rivolta tutta verso Mario Draghi Benvenuto Grazie E' un piacere Viene un abbasciatore al Portogallo che è magnifico Grazie Benvenuto Hey Valdis, come ti senti? Sul tavolo dei 27 riuniti ad Oporto in Portogallo Dove spicca comunque l'assenza della cancelliera tedesca Merkel Il tema della sospensione dei brevetti dei vaccini E poi resta il grande tema della ripresa economica Per Draghi troppe le disuguaglianze sul lavoro Per giovani e donne E soprattutto il Covid non ha fatto altro che accentuarle Di qui aggiunge il Presidente del Consiglio La necessità di spendere bene i soldi del recovery plan Paesi dell'Unione che tuttavia si avviano Seppur con velocità diverse Verso le riaperture tema Che tuttavia continua a dividere la maggioranza Fra un po' arriva metà maggio Fra qualche giorno I contagi stanno per ora andando bene Rimaniamo con quel piano lì Basta con scontro tra tifoserie Aperturisti o chi deve chiudere Bisogna usare il buon senso Serve una pianificazione certa delle riaperture Occorre dare certezze agli imprenditori e ai lavoratori 50 persone provenienti dalla campagna Sono state fermate dalla polizia In un'area di servizio del grande raccordo anulare di Roma All'altezza della Casinina Secondo quanto si apprende da fonte di polizia Il gruppo era intenzionato a manifestare Bloccando il GRA contro la chiusura delle sale gioco E' il momento adesso della nostra rubrica Giovani costruttori Questa sera uno studente del Politecnico di Milano Sentiamo Ci troviamo in un momento decisivo per il nostro paese Che deve rappresentare una svolta chiave per il nostro futuro La priorità va adatta dunque al miglioramento del sistema di istruzione Che possa formare le prossime generazioni E affrontare le sfide dei prossimi decenni Competenze scientifiche, materie informatiche, lingue straniere Devono essere il cardine per formare persone in grado di competere in tutto il mondo La priorità è dunque la riforma profonda del sistema di istruzione Che permetta a tutti con una piena realizzazione della parità di genere Di accedere alle competenze informatiche, scientifiche, di lingue straniere Troppo spesso ritenute appannaggio di poche persone predestinate Meritocrazia e competenze devono essere la base per costruire l'Italia del futuro Un paese in grado di tornare a essere leader in Europa e nel mondo Incendio in un palazzo a Londra Cento pompieri sono stati impegnati per spegnere le fiamme In un edificio popolare di 19 piani nella zona est della capitale inglese Sul posto anche diverse ambulanze e paramedici specializzati negli interventi in condizioni pericolose Durissimo attacco contro Israele da parte della Yatollah Kamenei Che tuona Israele una base terroristica contro i palestinesi e altre nazioni musulmane Questo mentre a Gerusalemme anche oggi si registrano scontri e morti La nostra corrispondente Alessandra Buzzetti Venerdì sera blindato a Gerusalemme Cento delle proteste ancora Sheikh Jarrah a quartiere nella parte arabe della città santa Ieri sera sono stati arrestati 15 palestinesi che manifestavano con le famiglie di residenti a rischio sfratto Una battaglia legale che dura da anni contro i coloni che rivendicano le proprietà delle case Un caso che ha fatto riesplodere la tensione dopo le minacce di Hamas Che giura vendetta se la Corte Suprema Israeleana decreterà lo sfratto Oggi anche la Yatollah Kamenei ha tuonato contro Israele Accusandolo di essere una base terroristica contro i palestinesi e altre nazioni musulmane La violenza in quest'ultimo venerdì di Ramadan è cominciata di prima mattina Due palestinesi sono morti e uno in fin di vita perché secondo l'esercito israeliano hanno tentato di attaccare un checkpoint vicino a Jenin Un clima di tensione destinata ad aumentare la prossima settimana a partire da lunedì il Jerusalem Day In cui Israele celebra l'occupazione di Gerusalemme Est del 1967 Gerusalemme è di tutti e non dobbiamo stancarci di ripeterlo specialmente ai nostri figli Dice Tamara, rabbina israeliana, al termine della settima edizione di una speciale preghiera interreligiosa per la pace nella Torre di Davide Il nostro impegno è quotidiano, impariamo l'arabo con l'ebraico, aiutiamo le famiglie più bisognose delle due comunità Non ci stanchiamo di chiedere un accordo che rispetti i diritti dei palestinesi, aggiunge Abitizam, fondatrice di un'associazione interreligiosa in Galilea Anche io sono una figlia della Nagba, alcuni miei familiari sono stati uccisi nel 1948 e abbiamo perso terra e case Ma è da quella sofferenza che è nato il mio impegno per la pace Torniamo adesso a parlare dei brevetti sui vaccini perché è l'Unione Europea che sta cercando una linea comune con Draghi e Macron che appoggiano la proposta degli Stati Uniti mentre la Merkel dice no Maurizio Dischino L'Unione Europea valuta la sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini anti-covid annunciata dall'amministrazione americana di Joe Biden È infatti uno dei temi centrali dei capi di Stato e di governo europei al Consiglio informale di oggi e domani a Porto, in Portogallo La Francia dice di essere aperta all'argomento e fa sapere che il problema adesso non è quello della proprietà intellettuale ma la solidarietà sulla diffusione di dosi Anche per la Germania i problemi sono la produzione e la disponibilità del vaccino anti-covid in tutto il mondo Intanto frena sulla moratoria riguardo i brevetti sostenendo che la protezione della proprietà intellettuale è fonte di innovazione e dovrà restarlo anche in futuro È urgente un meccanismo unico europeo per la distribuzione dei vaccini in tutto il mondo Si legge in una lettera che porta la firma dei leader di Spagna, Francia, Danimarca, Svezia e Belgio La lettera è arrivata oggi ai leader europei prima dell'inizio del vertice Il mio lavoro è quello di portare i componenti dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a lavorare insieme per trovare una soluzione pragmatica all'iniqua distribuzione dei vaccini Questa è la posizione della direttrice generale dell'agenzia Onungozi Okonjo Iweala la quale fa notare che l'80% della produzione di vaccini è concentrata in 10 paesi mentre l'Africa, che ha 1,3 miliardi di abitanti, importa il 99% dei vaccini Nel mondo i casi accertati di coronavirus sono 156 milioni dall'inizio della pandemia Preoccupa la situazione dell'India, secondo paese al mondo più colpito 414 mila i nuovi casi quotidiani che portano il totale a 21 milioni e mezzo di contagiati La Procura di Roma apre un fascicolo sull'episodio del peschereccio italiano Aliseo attaccato dalla Guaria Costiera Libica e intanto l'imbarcazione sta navigando verso l'Italia Marco Burini Era italiana, la motovedetta libica che ha sparato ai pescatori italiani a largo delle coste libiche l'altro giorno Giuseppe Giacalone, comandante del peschereccio Aliseo che domani mattina insieme agli altri due rientrerà nel porto di Mazzara del Vallo è rimasto leggermente ferito dalle schegge di un vetro andato in frantumi ed è stato medicato sulla Libeccio nave della marina militare italiana che incrociava nella zona e ha diffuso immagini dove accanto al peschereccio si vede il pattugliatore che ha sparato una delle unità regalate ai libici tre anni fa in base all'accordo del governo Gentiloni con Minniti ministro dell'interno, poi confermato da Conte con Salvini al Viminale per catturare i migranti e riportarli indietro nei famigerati centri di detenzione dove vengono spesso derubati, torturati e stuprati tra poco il Parlamento deve decidere se rifinanziare l'intesa ma le milizie che controllano la guardia costiera libica sparano anche ai pescatori siciliani un contenzioso che dura da anni, segnato da sequestri e sconfinamenti dai tempi di Gheddafi la Libia ha proclamato una zona economica esclusiva l'Italia ancora no è inaccettabile che i libici sparino ad altezza uomo ma quelle acque sono pericolose e proibite noi sconsigliamo di andarci, dice il ministro degli esteri Di Maio c'è un intero settore economico che conta migliaia e migliaia di addetti anche nell'indotto che oggi è perplesso, è disorientato non sa che futuro c'è per l'economia della pesca ammazzata qui servono accordi diplomatici e commerciali che ci indichino una direzione da prendere nuovo incidente mortale sul lavoro un operaio di 37 anni, Andrea Recchia originario della Basilicata ha perso la vita in una ditta di mangimia a Bogolese frazione del comune di Sorbolo in provincia di Parma l'uomo stava lavorando ieri sera con il muletto quando è rimasto schiacciato da un contenitore pieno di mangime per animali del peso di diversi quintali adesso andiamo a Prato per raccontare la protesta di operai e sindacati dopo la tragica morte di Luana Dorazio centinaia sono scesi in piazza con bandiere e cartelloni per esprimere solidarietà alla famiglia della giovane operaia e invocare maggiore sicurezza sul lavoro Rita Salerno è la mamma di un'altra giovane vittima sul lavoro Sabri Giaballa operaio di 23 anni morto il 2 febbraio scorso in un incidente in un'azienda tessile di Montale in provincia di Pistoia la donna grida la sua disperazione dal palco della manifestazione organizzata a Prato per la morte di Luana Dorazio la 22enne mamma stritolata a Montemurlo da un macchinario in una fabbrica tessile dove la giovane aveva un contratto di apprendista non è l'ultima vittima purtroppo una serie di incidenti mortali sul lavoro è avvenuta negli ultimi giorni come il tornista di Busto Arsizio mercoledì e l'operaio del Bergamasco ieri morire così nel 2021 con le tecnologie a disposizione per la messa in sicurezza di macchinari oltre ad una terribile tragedia e a un crimine le testimonianze dal palco di Prato sono toccanti e arrabbiate i lavoratori raccontano storie vissute sulla loro pelle tutti insieme per esprimere solidarietà e chiedere un concreto impegno del governo per garantire sicurezza sul lavoro e fermare le morti bianche che nel 2021 in Italia sono oltre due decessi al giorno una tragedia rimarcata in una seconda protesta davanti alla prefettura pratese da parte dei Cobas della stamperia text print condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro accusati di avere picchiato il giovane Stefano Cucchi lo hanno deciso i giudici della corte d'assise d'appello di Roma il tribunale arbitrale dello sport di Lausanna ha respinto il ricorso di Alex Schfaser contro la squalifica l'atleta azzurro dopo l'ordinanza del GIP di Bolzano che lo ha scagionato dalle accuse di doping aveva chiesto di poter tornare a gareggiare ma la sua richiesta è stata bocciata ed ora la storia di Maura una giovane romana vessata dall'ex compagno per anni fino all'incontro con i suoi angeli molto particolari e a cavallo di moto a pochi giorni dalla sentenza di condanna del suo guzzino Maura è stata ricevuta oggi in Campidoglio dal sindaco Virginia Raggi vediamo il servizio di Clara Iatosti sono una motociclista anch'io e questa passione è stata tramandata dal mio papà conoscevo loro la nome avevano di essere questi motociclisti che comunque erano nel sociale ma più che altro aiutavano i bambini Maura è una ragazza come tante che ha avuto la sventura di conoscere l'uomo sbagliato anni di violenza e paura poi il coraggio di denunciare e l'aiuto concreto degli MPM i Milites Pro Minoribus un gruppo di motociclisti irisoluti già intervenuti in casi difficili che coinvolgevano bambini malati La realtà è l'aiuto a questi ragazzi che a suo tempo avevano bisogno di un esercito di un'armata e noi avevamo pensato che i bikers sono la più bella, la più grande armata strani, particolari ma molto uniti uniti come ben pochi in questo mondo Tatuaggi e giubbotti di pelle nascondono un cuore grande anche l'avvocato di Maura fa parte degli MPM ed è riuscito a far condannare il suo aguzzino Quando ho depositato ovviamente le conclusioni scritte della parte civile il giudice non ha trovato la nota spese allegato mi chiede perché io rispondo le stesse parole che ho risposto a lui perché certe cose non si fanno per denaro o meglio non si fa tutto per denaro Il coraggio di Maura ha colpito tutti ed ora la sindaca Raggi le ha chiesto di lavorare con altre donne perché le violenze non restino impunite e per l'armata dei bikers la riconoscenza della città Papa Francesco ha nominato un nuovo vescovo in Italia si tratta di Monsignor Giuseppe Mazza Faro scelto alla guida della diocesi campana di Cerreto Sannita a Telese Sant'Agata dei Goti la chiesa da cui proveniva l'attuale arcivescovo di Napoli Monsignor Battaglia è il momento adesso di una breve pausa ci vediamo fra poco è arrivata la conferma pochi minuti fa dei cambi di colore per le regioni italiane nessuna è in area rossa sono arancioni Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla il ministro della salute e speranza sta firmando in questo momento l'ordinanza in vigore a partire dal 10 di maggio ed è tutto il prossimo telegiornale alle 20 e 30 vi lascio adesso al meteo e alla diretta della Messa ci vediamo più tardi arrivederci